La continuità degli assistenti sociali non costa nulla. Uno slogan che sintetizza il senso della protesta questa mattina ai Molini Marzoli. Via ai precari per far posto a nuovi precari. Non si comprende la logica delle decisioni adottate dal Comune. Denunciano a gran voce i rappresentanti sindacali intervenuti. I contratti scadranno il prossimo 31 marzo, concessa dal Comune al momento una proroga di 45 giorni. Chiediamo fortemente la stabilizzazione di questi lavoratori, con l'intento anche di dare continuità agli utenti già seguiti da questi assistenti sociali. Nicola Didonna, segretario della UIL Funzione Pubblica, stamattina qui a Torre del Greco ai Molini Marzoli per sostenere i lavoratori delle politiche sociali. Che cosa sta succedendo? Succede che l'amministrazione del Comune di Torre del Greco, il sindaco in particolare, non decide o decide male rispetto ai lavoratori che sono qui da 24 mesi e che fanno un servizio comunque istituzionale, seppur sono stati assunti con il PON, però coprono tutti i servizi. Noi abbiamo avuto un incontro con lui dove chiaramente abbiamo chiesto la stabilizzazione di questi lavoratori e quando noi diciamo stabilizzazione, diciamo stabilizzazione dei servizi. La stabilizzazione che chiediamo noi è quella che avviene attraverso la legge di stabilità, che a costo zero non grava sulla spesa del personale e per tutto il tempo e la durata del servizio di questi lavoratori. Quanti lavoratori stiamo parlando? Sono otto assistenti sociali, c'è uno psicologo, ci sono sei amministrativi, quindi parliamo 15-16 lavoratori. Però il problema è che chiaramente l'amministrazione ci dovrebbe far capire, ecco perché abbiamo chiesto un incontro al prefetto, perché non provvede ad utilizzare i fondi della legge di stabilità e fa un altro bando per creare altri precari. Questo secondo me è una risposta che il sindaco ci deve dare, ce la deve dare davanti al prefetto, perché noi vogliamo capire che cosa c'è dietro, perché se noi abbiamo molti dubbi che su questa partita di questi lavoratori ci possa essere qualcosa di molto molto delicato. I contratti di questi lavoratori adesso sono in scadenza? Il 31 marzo sono in scadenza, pare che ci sia una proroga di 45 giorni proprio per consentire il nuovo bando e quindi portare nuovi precari. Quindi si mandano via dei precari che hanno ormai competenze di 24 mesi, quindi sono professionalmente preparati e si fanno altri precari. Giuseppe Manfredi, rappresentanza invece della CISL, qui stamattina a Torre del Greco a sostegno di questi lavoratori, un danno per i lavoratori ma anche per l'utenza. Sì, non ci spieghiamo come l'amministrazione comunale di Torre del Greco sia praticamente indifferente dinanzi ad uno dei servizi più importanti che è un biglietto da visita, ma soprattutto è un servizio di prossimità di un'utenza disagiata. Noi stiamo prendendo delle professioniste che si sono formate sul campo, che tra l'altro come diceva anche il collega prima sono a costo zero per l'amministrazione perché sono delle patrie di giro con dei fondi specifici che provengono dallo Stato o anche da fondi europei e il sindaco decide di non prorogare questi contratti. Voi avete avuto già un primo confronto con il sindaco Palomba? Sì, abbiamo avuto un primo confronto, gli abbiamo spiegato quali sono le nostre proposte, quali sono le difficoltà, a cosa si andava in conto e la risposta è stata una linea di indirizzo per una mini-proroga di 45 giorni inspiegabile anche rispetto al contratto che avevano firmato iniziale e comunque non ci dà spazio a margini di manovra e non si capiscono le motivazioni perché non siamo mai stati più riconvocati. Abbiamo saputo queste notizie frammentate tramite i nostri iscritti, i nostri lavoratori rappresentati. Mancanza di risposte, la protesta come proseguirà? Non ci fermeremo qui perché veramente è ingiusto, è indegno ed indecoroso per una città come Torre del Greco vedersi privare di una professionalità così forte sul campo, sul territorio. Vicinanza espressa questa mattina anche dall'utenza e non manca l'appello al sindaco Palomba. Come faccio l'assistente sociale? Allora, io ho una assistente sociale, però mi hanno avuto bene tutte otto che mi vogliono bene. State assistente sociale, come si fa? Fate un appello al sindaco. Signor sindaco, voi a me mi conoscete? Io voglio la mia assistente sociale a tutti quanti perché c'hanno il cuore questi qua assistente sociale, quell'altri no, ma questi qua c'hanno il cuore, l'anima. Quando c'è un problema stanno là ore, ore, ore. Sì, sono una pazienza enorme. Mi raccomando signor sindaco, sono felice perché l'anima mi conosce a me. Grazie.